Opsa! Tutti, 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 miei cari psini e upsine, come state? Fatemi sapere come state. Oggi sono qui solo per voi, per fare un video dove vorrei provare a mettere in risalto il pineurale, quindi da un orecchio all'altro orecchio. Nonostante questo microfono abbia il pineurale situato tutto qua dentro e quindi si potrebbe sentire di meno rispetto a microfoni che sono proprio distaccati. Ma ci voglio provare lo stesso, intanto voi indossate un paio di cuffie o auricolari e stendetevi sul vostro letto. Va bene, in questo video se dovrò parlare cercherò di farlo in modo molto molto letto. Come primo trigger ho voluto prendere questa agenda che utilizzo. Ciao, l'orecchio. All'altro orecchio. All'altro orecchio. e lo rifacciamo. All'altro orecchio. Come sempre mi scuso se si sentiranno eccessivamente rumori di sottofondo ma farò il possibile per rimuoverli. Come secondo trigger volevo utilizzare questi dischetti struccanti per fare... Concentrati sul movimento che faccio con la mano. ... ... Ok. Adesso. Il prossimo, prossimo trigger. I sei cubetti di legna. Ok. 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 Faccio scontrare tra di loro. Ok. 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 Perfetto, mi è piaciuto tantissimo, adoro. Adesso prossimo trigger, un altro trigger abbastanza grande, ovvero il sottopentola, faremo un po' di scratching, che ne dici? E' sì. Stupendo, quanto, quanto l'adoro. Stupendo. Un'ultima volta di qua. E' bellissimo questo scratching qua. Ti è piaciuto? Ok. Adesso ho qui con me due parattolini. Questi qui sono praticamente identici, solo che uno è in plastica e fa un suono che si rifinisce un po' più chiuso, un po' più con la O. L'altro invece è fatto in vidro e ha un suono un po' più aperto, che si rifinisce con la I. Adesso vi faccio sentire. Adesso vi faccio sentire. l'altro. Quindi si rifiuto un po' più con la I. Ora proviamo l'altro, sentite la differenza. Ora proviamo l'altro, sentite la differenza. Sentite come questo è più chiuso proprio. Un'ultima volta di qua. Ok, adesso ho gli ultimi due trigger. E quindi facciamoli. Allora, quindi penultimo, non può mancare la nostra candela scoppiettante. Che è proprio qui. Ok. 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 Osserva come la fiamma si muove. Osserva come la fiamma si muove. L'abbiamo, l'abbiamo saputa. Adesso siamo qui per l'ultimissimo trigger prima di salutarci. E volevo fare con questo un po' di tapping e un po' di mouth sounds. Provoco un po' di mouth sounds. Devo fare dei movimenti lenti. Ok, dai. Ok, penso sia arrivato il momento di darti la buonanotte. Quindi, cucù, cucù. Ora tocca a te. Mi raccomando, iscriviti al canale se sei nuovo per andare a far parte dell'Obs community e diventare un opsino se sei un maschietto oppure un opsina se sei una femminaccia. Poi, importantissimo, lascia un like. Se il video ti è piaciuto e se hai un po' di tempo, lascia un commento qua sotto al video, va bene? Il video di oggi finisce qui. Ma se tu vuoi restare ancora insieme a me, io ti lascio di qua il mio video precedente, di qua una mia playlist e qua in basso il tasto per andare sul mio canale così da poter vedere qualsiasi video tu vorrai. E anche shorts, in quanto faccio anche gli shorts, io adesso ti mando un grande bacio. E buonanotte, 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 buonanotte.